Buongiorno e bentrovati nella mia cucina. Io sono Beatrice del blog Le Ricette di Bea e come sempre vi presento una ricetta facile, veloce e buonissima. Oggi prepareremo un secondo piatto davvero sfizioso con le uova di quaia. Siete curiosi? Iniziamo insieme questa ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.